ciao ragazzi ciao ragazze oggi parliamo di video bullismo su youtube allora ragazzi e ragazze questo è un video che vuol trattare bullismo io e ingrid del canale crazy makeup siamo state bullizzate da una persona che anche lei qua ha un canale su youtube ed è una signora perché ha 50 anni e non farà un nome ma questa signora ci ha definito ha definito noi che abbiamo canali di makeup io dico allora faccio una premessa innanzitutto perché devi fare la guerra a noi cioè cosa te ne viene in tasca con 200 iscritti che hai ma non è per i 200 iscritti è che non è assurdo che tu vieni a fare a noi la guerra e dico anche un'altra cosa siamo state bullizzate siamo state offese siamo state denigrate con parole molto brutte offensive che non usano usate la testa cosa state qua a fare che non capiamo niente che siamo praticamente ignoranti il succo il succo è questo perché noi andiamo a comprare le palette per fare i video per recensirli fondotinta per ma allora innanzitutto io dei miei soldi faccio quello che voglio io ho deciso di aprire questo canale per il semplice fatto che io adoro il makeup l'ho sempre adorato fin da piccolina e quindi non è questo che c'è non compro il trucchi per youtube ma compro i trucchi per per me perché mi piacciono e l'ho sempre detto io sono una anche una collezionista non dobbiamo ai niente e perché comunque mi affeziona le cose mi piace fare la collezione dei miei prodotti eccetera eccetera chiusa questa parentesi io non vado cioè io compro le palette per recensirle perché ho deciso di fare questo di aprire un canale per quanto riguarda il makeup che è la mia mia passione come ti permetti tu a a venire a dire certe cose a offendere le persone dopo che ha iniziato un video dicendo iscritto ricambia sempre così inizi sei banale proprio cioè è una cosa proprio banale non è la prima volta che fa un video del genere probabilmente gli rode che gli abbiamo tolto che un po di un po sono state tolte perché la signora praticamente in un video precedente che aveva fatto ha detto che lei che non bisogna scrivergli a lei sotto i suoi video iscritto ricambia vieni a vedere i miei video allora io l'ho guardata per un po mentre lei non è mai passata o pochissime volte passata dal mio canale e non sono obbligata a dirvelo ma ve lo dico io sono casalinga sono mamma per scelta per scelta non lavoro perché non ho nessuno a cui lasciare il bambino il bambino è ancora piccolo quindi non ho la possibilità di pagare nessuno per cercare un lavoro a tempo determinato cioè trovarsi un lavoro a tempo indeterminato ci potrei pensare e come se ci penserei ma lasciare il bambino comunque per un lavoro a tempo determinato incerto e insicuro non mi conviene visto che comunque le babysitter così costano almeno 5 600 euro al mese bisogna metterle in regola che è la cosa principale non si tratta di lavoro nero quindi chiusa questa parentesi io compro makeup perché mi piace compro makeup perché adoro il makeup chi mi segue lo sa chi mi conosce lo sa e sentirmi offendere da una persona che cosa sta lì a fare non lo so c'è mi pare giusto tra le altre cose la signora ha mandato un'altra signora sotto il video in sotto il video di ingrid crazy makeup dove offende dove dice che farà che lei fa le fatture dove dice che lei lei fa appunto le fatture qui malocchi e robe del genere quindi ci ha promesso a tutte fatture e quindi mi pare normale che questa manda quest'altra tizia a dire queste cose sotto i video di una persona che ama il makeup come ingrid vi pare normale io ho visto che tante persone alcune persone che sono iscritte al mio canale sono iscritte anche al suo canale non capisco se avete fatto gli ignorri e non avete risposto a quello che lei ha detto ma vi siete solo fermati alla prima parte del video per non andare oltre o se avete sentito tutto avete commentato e se è così io ho fatto gli shot di tutte quelle che hanno commentato quelli e quelle che hanno commentato sotto il suo video e sono iscritte al mio canale e prenderò futuri prenderò provvedimenti vedrò se è il caso di tenervi tra i miei iscritti oppure se cancellarvi perché se voi seguite lei e gli date ragione poi venite da me e e poi venite da me sotto il mio video ah brava like che bel video che bei prodotti c'è qualcosa che non va quindi per me è una cosa già bocciata perché non è coerente non è coerente e date ragione a lei poi venite sotto il mio video e dite ah bel video bel canale bel di qua bel di là e poi cioè cos'è vuol dire ci prendiamo in giro io sono su youtube adesso monetizzo quindi per me è un lavoro a tutte quelle che la signora ha detto che spendono soldi per recensire i prodotti allora facciamo dei nomi no parliamo di ambra del canale osservatrice scaltra osservatrice scaltra non è una make up artist allora non è giusto che lei stia su youtube perché la signora ha detto a mia figlia è una make up artist sta studiando a make up artist e beh che me frega a me cioè dov'è il problema ma cosa ti rode perché ti rode rosi chi è allora dicevo osservatrice scaltra non è una make up artist perché sta su youtube compra dei prodotti gli inviano dei prodotti gli inviano dei prodotti gli recensisce osservatrice scaltra ambra non devi stare su youtube e l'onora manni e l'onora manni non sei una make up artist cosa continui a comprare tutti quei prodotti via da youtube cosa stai qua a fare ragazzi ma adesso il senso qual è di questa cosa me lo spiegate perché io sinceramente non ci sono arrivata cioè l'unica cosa a cui sono arrivata è che questa persona è invidiosa è gelosa perché è a 50 anni viene a dire mamme di mamme mamme che hanno famiglie figli e marito fanno due tre video al giorno ma io sarò libera di fare due o tre video al giorno posso fare quello che voglio o devo chiedere il permesso a qualcuno di sicuro non devo chiederlo a te quindi sei pregata di non mandare nessuno sotto i video perché i prossimi commenti che riceveremo sia io che ingrid sotto i video io parlo per me denuncerò la polizia postale perché il fatto che la signora abbia mandato un'altra signora a dire che fa le fatture è una cosa molto grave può essere ritenuta come una minaccia quindi attenzione a quello che dite sotto i video perché non è tutto lecito scrivere ciò che si vuole ognuno è libero di scrivere il suo pensiero di dire il suo pensiero ma attenti con le minacce quindi detto questo spero che abbiate capito cosa è successo praticamente riassumo un attimino praticamente chi ha il canale make up e va a comprare palette per fare recensioni o va a comprare fondotinta o cose del genere è malato di mente non è a posto con la testa questo ci è stato detto e io dico un'altra cosa chi recensisce prodotti quindi non solo make up ma anche si è in tigota e altri prodotti che arrivare che detersivi che va a recensire su youtube sono malati di mente non ce la fanno quindi ragazze questo è il succo spero che abbiate capito non vi chiedo di iscrivervi al mio canale se volete fatelo se no pazienza vi saluto e con sinceramente con una vi saluto con un sorriso ciao